Il difensore della Juventus Bremer punzecchia l'Inter per il derby d'Italia. Ho scelto la parte giusta. E adesso vi dedichiamo questa intervista che ha rilasciato il calciatore Gleos Bremer Adason in vista del prossimo. Appuntamento di Serie A, ossia il derby d'Italia contro l'Inter che questo anno è anche una sfida scudetto. Ricordiamo che il giocatore era di proprietà del Torino ed è stato oggetto di una vera e propria trattativa molto. Agguerrita per aggiudicarselo che vedeva da una parte proprio l'Inter e dall'altra la Juventus. Le due offerte al Torino erano molto simili, alla fine il giocatore ha preferito i bianconeri. Oggi spiega il motivo. Se penso che avrei potuto giocare all'Inter? No, sono dalla parte giusta. Con l'Inter sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince non vince il campionato, ci sono ancora tante partite, però è un passo importante. Blaovic è un attaccante fisicamente forte, quando giochiamo insieme in partitella gli do molti consigli. È bravo e sta migliorando tanto. Anche Yildiz è un bel attaccante, in allenamento entriamo duro su di lui, ma non si lamenta e continua a giocare. Ha grande forza nelle gambe e può fare una bella carriera. Ci sono attaccanti che non si possono mai lasciare tranquilli, come Osimen e Lukaku, loro sono di livello internazionale. È utile farli innervosire perché poi in pochi rimangono concentrati tutta la partita. Grazie a tutti.